ciao a tutti cari amici amici del segno della vergine eccoci pronti per indagare le vostre energie quindi facciamo questo rosco per il mese di settembre 2023 ricordo a tutti che queste sono energie generali quindi non possono valere per tutti per quello vi invito se volete a optare per i miei consulti privati di cartomanza vi lascio qui sotto tutto nei box informazioni se volete lasciate un like un commento interagite con me lasciatemi un feedback iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra bando alle cianci incominciamo con le energie generali e globali per questo mese di settembre 2023 allora partiamo con trovare una soluzione carta 61 fate riferimento anche al numerino al numero 61 che potrebbe essere importante per voi qua troverete la chiave per non so far breccia nel cuore di una persona o comunque sia in generale se avete delle problematiche da risolvere qui le carte dicono bene riuscirete a trovare la chiave per risolvere una situazione per non so far aprire quella porta potrebbero esserci anche questioni legate alla casa quindi a un acquisto a una vendita a un rogito a un mutuo a un prestito questioni legate anche all'ambito immobiliare quindi qualcosa che si andrà aprire anche dal contista è appunto della della casa ma non solo in generale troverete la soluzione migliore per far smuovere una situazione in una più sfere della vostra vita che sia la sfera amorosa la sfera dell'amicizia la sfera lavorativa o anche una sfera proprio pratica e materiale della vostra vita siete sulla strada giusta e ce la farete ad aprire quella porta ok quindi non demorrete perché è una carta comunque questa molto importante quindi partiamo con energie molto molto valide e infatti abbiamo la carta della nave la nave è ovviamente un mezzo di trasporto quindi qui potreste fare dei viaggi in nave in mente non so una crociera o comunque se in generale ci sarà uno spostamento anche uno spostamento proprio di energie energie positive c'è un viaggio del movimento vedrete anche a nuove prospettive perché magari alcuni voi si sono fossilizzati troppo su una persona sul lavoro su altre questioni e vi siete accorti che appunto qualcosa non va adesso guardate avanti guardate oltre ok quindi qui sicuramente c'è un qualcosa quell'energie che sono in movimento ok quindi qua c'è anche non so una nuova partenza all'avvicinarsi a situazioni o a persone per voi molto importanti un altro messaggio che mi viene in mente è che troverete una soluzione a una problematica solamente se non vi focalizzerete su dove state puntando adesso ma la soluzione la troverete in un altro luogo o attraverso un altro mezzo o attraverso un'altra persona quindi guardate verso una nuova prospettiva verso una nuova angolatura vuol dire che adesso vi siete fossilizzati troppo su quella persona su quella dinamica che siete un po' diciamo accecati non riuscite a guardare e a percepire la realtà dei fatti così com'è quindi dovete puntare verso nuovi obiettivi nuovi orizzonti solo così riuscirete a far smuovere una situazione ok abbiamo la carta dell'eremita la carta numero 9 dovete guardarvi dentro per trovare le risposte quindi qui sarà un mese di introspezione un mese in cui riuscirete sicuramente a concentrarvi a trovare anche una centratura e a trovare una risposta e trovare anche una soluzione quindi dovete cercare di lavorare anche su voi stessi fate come questo erenita qua c'è proprio un processo di illuminazione il fatto che riuscirete comunque a trovare risposte alle vostre domande e anche al fatto di ricercare voi stessi siete proprio alla ricerca di risposte e sicuramente durante questo mese c'è comunque anche un movimento di idee anche un qualcosa da puntista mentale dovete però ripeto cercare di guardarvi dentro attraverso la vostra saggezza ok la vostra anche lungimiranza e andare oltre ok quindi comunque sia sono ottime carte queste molto molto belle però andiamo avanti con la quarta carta la quarta energia abbiamo anche per voi la forza l'arcangelo a Ariel la carta numero 11 c'è c'è comunque tanta forza tanta determinazione tanta volontà nel trasformare determinate cose determinati rapporti in positivo dovete liberarvi come dice questa carta da l'odio e dai giudizi e qui c'è anche potrebbe esserci anche una fase di perdono e di compassione perdonerete voi stessi perdonerete una più persone ok queste carte in realtà non mi parlano di diciamo rapporti nuovi da puntista amoroso da puntista non so collaborativo perché comunque la carta centrale è proprio la carta dell'eremita c'è il fatto di voler star da solo da soli e ben venga perché questo vi può aiutare vi può aiutare a riflettere quindi c'è un apparente immobilismo un apparente staticità ma che in realtà è solo apparente perché con la carta della nave c'è comunque del movimento c'è un movimento proprio di energie quindi sicuramente diciamo che le energie sono a vostro favore poi ripetiamo che la carta dell'energia comunque principale di questa lettura è proprio il fatto di trovare una soluzione a una problematica che sta anche assillando da tanto tempo ok e poi abbiamo l'edera in un'accezione positiva quindi mi parla di matrimonio di affetto duraturo quindi anche in questo caso però qua c'è la possibilità di non so salvare un matrimonio perché magari alcuni voi hanno vissuto i momenti di blocco quindi c'è la possibilità di salvare un matrimonio salvare un fidanzamento con la carta anche del perdono o verrete perdonati voi perdonerete il vostro partner anche perché qui mi parla di affetto duraturo quindi c'è comunque un rapporto che può essere destinato a durare nel tempo anche comunque sia a maturare sempre di più molto fa anche dalla vostra voglia di portare avanti questo rapporto e ne vale davvero la pena riflettete ripeto con la remita una carta di intensa riflessione perso personale per trovare grazie anche al vostro intuito e i giusti comunque consigli ok quindi ricercate la verità dentro di voi non fuori dentro di voi e sicuramente ce la farete ok in bocca dopo a tutti e alla prossima ciao a tutti